Qualsiasi cosa della loro vita loro la riprendono, anche il mio risotto, anche il mio risotto. Nuova Germania del 1908, 47 metri che ospita la festa della prima serata della I Am Influencers Awards di Monaco, una seconda edizione. Questo è Clarence, Tom Clarence, mezzo milione di follower. Al prossimo episodio Grazie a tutti.